La manifestazione Ludicastello, realizzata dall'Associazione Ludica Culturale Peter Pan di Città di Castello, è giunta ormai alla sua decima edizione. Obiettivo di questa manifestazione, cresciuta nel tempo, è quello di riproporre periodicamente un evento che potesse mettere al centro il gioco e riunire così tutti gli appassionati. L'iniziativa, infatti, è interamente dedicata al gioco in tutte le sue forme. Giochi da tavola, giochi di ruolo, miniature, giochi di carte, laboratori dedicati, robotica e anche retro games. Questa è un'edizione un po' particolare, diciamo. L'abbiamo nominata l'isola che non c'è, fondamentalmente. Siamo soliti dare ad ogni edizione un nominativo e quest'anno riguarda proprio l'isola che non c'è, perché il tema fondamentale è appunto Peter Pan, Capitanoncino e tutto quello che non consegue. Abbiamo, diciamo, voluto dare questa impronta a questa edizione proprio in funzione del fatto che dieci anni per noi sono importanti. Anche quest'anno Ludicastello avrà sede all'interno della Biblioteca Comunale Giosuia Carducci di Città di Castello, il 20 e il 21 aprile, dalle 10 alle 19. Per l'occasione sono stati invitati molteplici ospiti da tutta Italia, associazioni con cui Peter Pan ha avuto modo di collaborare durante gli anni, importanti autori di giochi, illustratori, esercenti, locali e non, con prodotti dedicati a tutte le sfaccettature del gioco. La decima edizione di Ludicastello combacia con il cinquantesimo compleanno di Dungeons & Dragons, che è il gioco di ruolo più famoso del mondo. Quest'anno abbiamo, come dire, unito questi eventi importanti per dare un taglio molto particolare al nostro evento, con una direzione che vuole onorare il fantasy e soprattutto lo stare insieme.